buongiorno cerchiamo di fare un aggiornamento ciclico oggi il 19 aprile circa ogni mese faccio un aggiornamento ciclico un approfondimento e vi ricordo intanto prima di tutto che farò un corso cicli l'11 12 giugno ne tengo due solo all'anno non sempre tra l'altro perché per me principalmente faccio tre anni studio quindi non faccio corsi continuamente perché il mio obiettivo principalmente guadagnare sui mercati e poi studiare i mercati perché ho un interesse proprio come essendo social siat quindi l'11 12 giugno andate sul sito investimenti vincenti perché interessate a scriversi i prezzi sono molto bassi andate a vedere poi anche il programma con una giornata a mercati aperti iniziamo ora dalle rostox questo il ciclo trimestrale come al solito col sarcos navigator ciclo trimestrale abbiamo due possibilità qui vediamo quella breve cioè durata intorno ai 60 giorni partito l'otto di febbraio attenzione che sulle semplici 500 le cose sono un po diverse differenti ma non le vediamo qua qui vediamo solo rostox e fuzzi nib sul minimo del vedete qua del 22 siamo metà ciclo quindi 60 giorni ci sta e che due si è già messo vedete in tempi idoni si è messo indebolimento e quindi a questo punto può gradualmente indebolirsi per andare a concludersi è nella prima settimana di maggio io non mi aspetto grandi indebolimenti a meno di eventi particolari quali eventi particolari qui vediamo proprio le rostox e venti di guerra dalla corea o che vince le elezioni la destra francese quindi vuole uscire dall'europa ecco però diciamo livelli fino 3.300 3.270 così ci possono stare già oltre 3.270 faccio sto parlando del future stock scusate consideriamo che l'indice quota 70 punti in più qui sotto abbiamo il fib e vi ricordo invece che l'indice quota quota la bellezza di 450 punti più quindi bisogna stare attenti io parlo del future perché presso quello vado operare quelle opzioni invece bisogna guardare l'indice quindi ci sta correzioni 3.300 3.270 non mi aspetta grande indebolimento se invece prevale prevalesse la seconda possibilità c'è un ciclo più lungo che vediamo dopo lo vediamo anzi ve lo faccio vedere qui così vedete la versatilità di questo software da me realizzato adesso allungo i tempi sposto il ciclo a 2 4 2 3 cioè due tempi e 4 sotto cicli arriviamo a oltre 80 giorni ecco si va quasi 90 giorni vedete ecco qui il 22 sarebbe finito un primo sotto ciclo mensile realtà circa un mese e mezzo quindi adesso ci potrebbe essere una fase di leggero di alternarsi di forza e debolezza fino a questo minimo che è inizio fine aprile inizio maggio poi ci sarebbe ancora una fase di rimbalzo una fase ancora di spinta che potrebbe anche portare nuovi massimi non sull'SMP ma per l'europa nuovi massimi diciamo intorno a metà maggio poco dopo e dopo ribasso per andare a chiudere a inizio entro la metà di giugno durerebbe quindi 4 mesi come i precedenti gli ultimi due cicli sono durati 4 mesi è un'eccezione perché più spesso durano meno di 4 mesi durano 3 mesi 3 mesi e mezzo però visto che gli ultimi due sono durati così potrebbe continuare questo andamento che poi è legato anche a molte decisioni delle banche centrali ma non voglio approfondire questo questa è la struttura ciclica su cui sto ragionando dov'è che prevale una o prevale l'altra? torniamo sui prezzi puntuali qui do i dati in real time per i prezzi sono a chiusura di 5, 15, 60 minuti andiamo a vedere invece le chiusure più puntuali queste sono dati in real time adesso sono quasi in mezzogiorno nel 19 aprile e se si cominciasse ad andare ben sopra 3.400 diciamo verso 3.400 e 30 e allora prevale questo secondo scenario cioè un ciclo più lungo invece quello che avevo detto prima è il ciclo più corto vuol dire che ci sono pochi rimbalzi sì, 3.380, 3.400 ma tendenzialmente si dovrebbe scendere verso 3.300 e anche sotto se andiamo a vedere i cicli più brevi questa cosa le insegno bene al corso sui cicli l'11 e il 12 giugno andiamo più a fondo vediamo con quale è tutta la teoria ciclica poi facciamo mercati aperti opera mercati aperti l'intera giornata in un'edì se andiamo sui cicli più brevi cioè questo è il ciclo più grande questo sarebbe il ciclo o mensile cioè dal 22 fino a questo possibile fine di inizio maggio o il metà trimestrale che in realtà è già un ciclo a metà trimestrale e ve lo ingrandisco questa è la sua struttura che vedete potrebbe andare a chiudere qui sembrerebbe più corta entra a fine maggio ma probabilmente si allunga un po' è inizio del 22 io mi aspetto che si allunga un po' quindi questo ciclo potrebbe essere o debole fino all'inizio maggio oppure grosso modo un po' rialzi un po' ribassi cioè senza particolare né forza né debolezza sempre fino fino a aprile inizio maggio e poi parte una nuova fase cioè ripeto qui sto facendo vedere l'ingrandimento questo è l'ingrandimento della struttura che va da qui a qui nel caso del ciclo più lungo oppure la struttura che va adesso vediamo il ciclo più corto la struttura che va da qui a qui nel caso del ciclo trimestrale invece è 6 più corto cioè 2 più 3 mesi invece che 4 questa è la sua sottostruttura se vogliamo vedere a sua volta la sua sottostruttura il ciclo settimanale è partito l'11 quindi ci sta questo rimbalzo ma già da oggi pomeriggio potrebbe iniziare a indebolirsi per andare a chiudere quindi già domani quindi il 20 e il 21 me li aspetto leggermente deboli sempre su base statistica eh qui andrebbe messo un centro sempre su base statistica io non ho certezze da vendere ho solo strutture statistiche che possano avere ragione ben più del 50% dei casi giusto per sbilanciarmi vi faccio vedere invece il ciclo più breve il ciclo giornaliero vedete che questo ciclo è in forte spinta in questo momento però vi dico già adesso è circa mezzogiorno secondo me questo ciclo se seguisse le regole dell'analisi ciclica diciamo entro lo vedete qua le 14 14.30 qua forse anche prima prima venire a scendere per poi trovare un minimo conclusivo entro il 19 di stasera lo dico sempre su base statistica ora andiamo a vedere velocemente il FUZI MIB che non cambia molto cambia poco sempre i dati in realtà li forniamo noi tra l'altro adesso faremo uscire breve quello con dati a un minuto cioè il nuovo Cycles Navigator che siamo ancora in fase di test eccolo qui questo è sempre il vecchio Cycles Navigator con dati in realtà in a 5 15 e 30 eccolo sistemato qui vedete il ciclo più lungo trimestrale che è praticamente messo come l'Aerostox come tempi come forme se uno va a vedere l'indicatore ciclico è più debole lo vediamo anche qui il confronto vedete come l'indicatore ciclico questo è un indicatore ciclico meno preciso di quelli che uso su Cycles però vedete che è più ribassista assolutamente più ribassista sì dovrei tenere conto il differenziale ma vedete questo buco qui è un buco più o meno simile tra Eurostox in termini percentuali e FIB comunque al di là di questo è più debole è più debole è più debole perché siamo scesi con maggiore vehemenza per esempio vedete guardate qua questo è il minimo del 22 siamo scesi sotto scusami qui scusate qui non siamo scesi sotto Neurostox siamo scesi sotto per il FIB anche questo indica una maggiore debolezza statuale quindi qui dov'è che potremmo andare ricordando che il FUZI MIB quota 450 punti in più beh 18,5 ci può andare forse anche sotto non mi aspetto oltre un indebolimento corale 18,7 18,5 invece guardiamo sempre il FIB se si cominciasse ad andare sopra se si cominciasse ad andare sopra 19,7 19,8 allora prevarrebbe la struttura che vedete qui quella più lunga cioè un ciclo che può recuperare scendere recuperare fino a inizio maggio poi un nuovo recupero e poi discesa più verso fine giugno ve lo sto ripetendo la versione l'alta versione il ciclo più breve che non è questo adesso ve lo faccio vedere il ciclo più breve ve lo metto ciclo più breve invece è un ciclo che dura circa 60 giorni e a questo punto e a questo punto mancherebbe sostanzialmente ancora una fase di leggero ribasso un paio di settimane circa per andare a chiudere ma non mi aspetto comunque in genere grandi ribassi ciclo breve ancora settimanale questo ciclo settimanale come l'Eurostox ci sta a rimbalzo oggi ma già da oggi pomeriggio al limite domani mi aspetto un paio di giorni di discesa ulteriore sempre lo dico su base probabilistica ciclo giornaliero anche qui mi aspetto vedete qua guardate ve lo dico io qua è circa una ore 13.45 fino alle ore 14.15 ecco al massimo ancora salita fino a qui e poi mi aspetto discesa fino per circa 4 ore massimo 5 ore questo è il ciclo giornaliero oggi adesso è circa mezzo giorno nel 19 aprile quindi abbiamo visto come si fa l'analisi multiciclica si può fare lo spiego al corso vi ricordo che ti avrò il corso l'11-12 aprile giugno scusate andate sul mio sito investimenti vincenti per scrivervi se vi scrivete avete anche al mio sito avete anche una serie di report che potete leggere free vi insegno come si fa l'analisi multiciclica ma la vedremo anche con indicatori semplici non è necessario avere il mio software il mio software dà qualche vantaggio più è ovvio se non l'avrei fatto per me stesso vi spiego però anche come utilizzare quali normali come visual trader o altre delle vostre piattaforme di trading per fare analisi e trading ciclico bene vi saluto e ci vediamo un prossimo appuntamento